Chi mi conosce come doppiatrice sa che il mio nome è Jasmine Laurenti e che ho dedicato la maggior parte della mia vita a dare voce ai personaggi di cartoni, film, telefilm e così via, che molti ancora oggi ricordano con molto amore, affetto e piacere e io ve ne sono grata. Arriva un momento nella vita in cui però si scopre di avere una chiamata, metto le virgolette intorno a questa parola perché non vorrei suonare troppo spirituale, anche se in realtà è spirituale nel senso che vuole abbracciare una visione più ampia di quello che è la sala di doppiaggio nel mio caso, quindi uscire alla luce del sole, espormi, metterci la faccia per così dire, per porgere al mondo il mio messaggio. A marzo dell'anno scorso è nato un talk show che si chiama The Jasmine Talk Show che poi ha cambiato nome nell'arco dei mesi, è diventato The Jasmine Talk Show, The Jasmine Talk Show, ma sostanzialmente è il mio sogno coronato di incontrare persone che abbiano un messaggio di ispirazione. Questo talk show, che poi è diventato The Wavelet Show, è stato abbracciato, conglobato da un progetto molto più ampio, nel quale sono coinvolte altre persone oltre a me, quindi c'è un team di lavoro che si sta prestando a partire con qualcosa di grande, che si svolgerà dietro le quinte finché non verrà il momento di rendere pubblico il risultato finale. Nel frattempo è partito il diario in video e in audio che ho chiamato Ondina Wavelet Diary per farti sapere che continuo ad essere qui, on the web, ad occuparmi di argomenti che portino qualità nella vita delle persone. Passione, entusiasmo, voglia di libere, credere nei valori come fari guida, nella nebbia anche più fitta, che ci portino, ci conducano a destinazione, ad essere chi noi siamo veramente, chi noi siamo nati per essere. Perché molti di noi magari si perdono per strada e non si ricordano di essere qui per un motivo, magari non hanno ancora compreso qual è la loro chiamata, la loro visione, oppure stanno sottovalutando i loro talenti. E quindi ecco, questo è il motivo per cui io desidero continuare a ispirarti. Per quanto riguarda te, come puoi aiutarmi? Con un like, con un commento, condividendo un video, un podcast con i tuoi amici e continuando a sostenermi con i tuoi feedback perché mi interessa sapere che cosa ti rende felice e qual è l'argomento che ti può aiutare in un determinato momento del tuo percorso. Siamo qui insieme, siamo qui per crescere e continueremo a farlo. Ti saluto e ti ricordo che sono presente nel mio canale YouTube Jasmine Laurenti, anzi ringrazio tutti coloro che si stanno aggiungendo, ormai siamo a una media di una, due persone al giorno, quindi sono felicissima di questo, non posso crederci. Siete in tanti e il numero comincia a crescere pian piano ma comincia a diventare sempre più importante. Quindi grazie per iscriverti al mio canale YouTube, per attivare le notifiche così sei aggiornato sui nuovi contenuti, per seguirmi sul profilo di Spreaker dove trovi tutte le interviste, tutti i contenuti in versione audio, podcast, e su Instagram nel mio profilo The Jasmine Laurenti Show. A prestissimo, ciao!